Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla conferenza stampa promossa oggi in città da Forza Italia. Sono stati numerosi i punti trattati, tra cui le compensazioni Eni e anche il porto rifugio. Vediamo. Compensazioni Eni, porto, agricoltura sono alcuni dei punti dibattuti questa mattina nel corso della conferenza stampa promossa a Gela da Forza Italia, presente anche il deputato regionale Pino Federico e il consigliere comunale Salvatore Scerra. Abbiamo dato due priorità e sono il porto e l'agricoltura. Il porto speriamo che è martedì e quindi ci arriva questa benedetta firma da parte della presenza della regione, dopodiché potremmo dare un cambio di marcia all'economia di questa città, dopo la chiusura dello stabilimento ovviamente. Bisogna dunque dialogare con l'amministrazione comunale, è l'obiettivo di Forza Italia. Noi speriamo di avere un confondo con l'amministrazione comunale che da un anno sicuramente non ci rende partecipe di tutto tranne sui temi importanti che sono stati la chiusura, quindi la vertenza Gela e il porto di Gela. Sul porto di Gela io faccio parte pure del gruppo di lavoro ma speriamo che questa amministrazione la smetta di improvvisare tutto e ci dà un programma e lo presenta sia in consiglio comunale ma soprattutto alla città che ne ha molto bisogno. Disposti al dialogo dunque qualora sarete convocati? Noi siamo disposti al dialogo per il bene della città ma vorremmo capire come loro si vogliono muovere e soprattutto in che direzione vogliono andare. Il consigliere comunale crocifisso napolitano. Noi vogliamo valorizzare anche con questi 32 milioni di euro dell'eroides anche le periferie. Abbiamo suggerito anche di fare dei musei da realizzare per esempio cantina sociale perché abbiamo avuto delle proposte anche dalla nostra parrocchia di fare un museo per quanto riguarda i presepi di Natale che padre Renzo ne ha 500. Quindi valorizzare questo tipo di programma e poi abbiamo detto di aiutare anche tanti gli anziani che sono lasciati in abbondono completamente creando dei centri aggricativi o dei campetti di bocce. Con cose poche possiamo realizzare tanto. Federico contesta il protocollo d'intesa firmato il 6 novembre del 2014 al Ministero dello Sviluppo Economico. Noi dobbiamo riprogrammare questo nostro territorio per cui queste risorse a nostro parere servono per determinare lavoro, opportunità perché ci sarà una lunga fase di transizione che la città dovrà affrontare. Lei ha accusato aspramente i soggetti che hanno firmato il protocollo d'intesa e lei ad oggi lo ritiene ancora fallimentare quel tipo di protocollo. Ma sicuramente avevamo un protocollo nel 2011 che avrebbe permesso a questa città investimenti per 800 milioni. Significa che non si perdeva realmente nessun posto di lavoro sia nel diretto che nell'indotto della raffineria. Qualcuno ha firmato quel protocollo dicendo che era migliorativo ma in realtà è che dopo due anni ci troviamo ancora a ferme. La riconversione parte lentamente ma anche partendo dalla riconversione della raffineria si perdono centinaia di posti di lavoro. Per cui io penso che il progetto che avevamo messo in campo noi era più utile alla città. In ogni caso ancora mi devono venire a spiegare qual è stata l'utilità di quel protocollo. Anche perché se vi ricordate bene molta gente diceva che in Italia chiuderanno diverse raffinerie. Signore me, hanno chiuso solo la raffineria di Gera. Questo è il risultato dopo due anni. Quando lei fa riferimento spesso a quando lei era presidente della provincia e ha puntato molto sulle infrastrutture. Ancora oggi lei dice che il settore del turismo è un settore che potrà partire ma molto lentamente. Bisogna creare le basi con le infrastrutture. A quali infrastrutture si riferisce? Noi come presidente della provincia avevamo fatto, se si ricorda bene, il distretto turistico. Il distretto turistico cos'era? Era quella struttura che metteva insieme Agrigento, Caltanizzetta, Piazza Almerina e Caltanizzona per fare un'unica struttura turista, per sviluppare il turismo. Perché il turista che arrivava ad Agrigento sicuramente doveva venire a Gera per il patrimonio che c'è, doveva andare a Caltanizzona e doveva andare a Piazza Almerina. Quindi avevamo il primo passaggio di quello di fare il distretto turistico. Ma la gente per arrivare da noi deve essere incentivata ad arrivare. Per esempio abbiamo un aeroporto, quando poco fa dicevo mettiamo su un progetto per la Gela Vittoria, che significa che cosa? La gente che deve venire ad Agrigento, che deve venire a Gela, deve avere la struttura che permette di arrivare più velocemente possibile. In questo caso per esempio l'aeroporto è importante. Però noi siamo isolati lì. Per arrivare all'aeroporto di Comus ci vuole un'ora e venti minuti sono semplicemente venti chilometri. Quindi c'era tutto un progetto da mettere su. Anche per velocizzare il collegamento con Catania, quindi con Ragusa, con Agrigento. Le infrastrutture servono a quello, velocizzare il collegamento fra i vari territori e quindi fra le persone. Deve scontare un anno, 11 mesi e 19 giorni di reclusione. Il genese di 24 anni è arrestato dalla polizia. Si tratta di Alessandro Peritore. Il ragazzo è accusato di traffico di sostanze stupefacenti. I fatti contestati risalgono al periodo che va dal marzo 2010 al 30 settembre 2011. Il provvedimento è stato emesso dalla procura presso la Corte d'Appello di Caltanissetta. E adesso spazio alla trasmissione a Gorà. Andate in onda ieri sera sui nostri teleschermi, nel salotto di Franco Gallo, si è parlato di debiti fuori bilancio. Regali al veleno a mai finire. La politica gelese, quella in particolare dell'ultimo ventennio, ha lasciato in eredità agli ignari gelesi una montagna di debiti. Debiti che prima o poi bisognerà pagare, su questo non c'è dubbio. E la vigliaccheria più feroce è che per garantirsi la loro ascesa politica, questi signori che hanno contratto senza colpo ferire questi debiti a carico dei gelesi, li hanno nascosti per tanti anni. E a passare dalla cassa saranno le nostre future generazioni, che nasceranno o stanno nascendo sapendo che avranno sul groppone, senza averne la minima colpa e responsabilità, un malloppo di cambiali da andare a saldare. Debiti su debiti su debiti. Una maledetta macchina infernale che ha prodotto una quantità spaventosa di debiti, appunto. I famosi debiti fuori bilancio, che oramai sono diventati l'argomento principe del dibattito politico in città. Non c'è consiglio comunale, infatti, nel quale non si parli di questo. Prima era un argomento tabù. Nessuno ne parlava, soprattutto chi li contraeva quei debiti. Che, come la peggior massaia di questo mondo, che nasconde la polvere sotto il tappeto, si sono ben guardati dal far conoscere ai poveri gelesi cosa stavano combinando al loro destino. Poi, improvvisamente, la vicenda dei debiti fuori bilancio è esplosa in tutta la sua reale gravità. Era l'estate del 2014, quando la Corte dei Conti faceva esplodere la pentola a pressione dei debiti fuori bilancio gelesi. 36 inviti a dedurre per altrettanti, tra amministratori, consiglieri comunali e dirigenti del comune. Tutti invitati, appunto, a pagare pesanti sanzioni pecuniarie per avere taroccato i bilanci del comune, dove avrebbero dovuto transitare quei debiti che, invece, continuavano ad essere nascosti come la polvere sotto un tappeto, che però, nel frattempo, era diventata una montagnola davvero molto vistosa. Solo due di quei 36 amministratori si rifiutarono di pagare e si opposero a quell'accusa. L'ex assessore alla pubblica istruzione, l'avvocato Marina Laboria, e l'ex consigliere comunale, Terenziano Di Stefano. Gli unici che accettarono, al loro rischio e pericolo, di affrontare il giudizio dei magistrati della Corte dei Conti. A due anni da quell'agosto 2014, Laboria e Di Stefano hanno vinto la loro battaglia, venendo assolti per ben due volte dall'accusa mossa dalla Procura della Corte dei Conti, ed ora in maniera definitiva, facendo valere le loro estranetà ai fatti contestati. Di tutto questo si è parlato ieri sera ad Agorà. Il rotocalco settimanale della nostra emittente ha ospitato lo stesso avvocato Marina Laboria e dal telefono anche l'ex consigliere Terenziano Di Stefano. Oltre ai due protagonisti dell'assoluzione dall'accusa della Corte dei Conti, in studio, assieme al conduttore, anche il sindaco di Gela, Domenico Messinese, che ha tra l'altro spiegato a quanto ammontano i tanti, tantissimi debiti fuori bilancio lasciati in dote ai gelesi dai precedenti amministratori comunale e che inoltre non è vera la notizia che quest'anno l'Atari sarà aumentata del 40%. A completare il parterre degli ospiti di Agorà, anche l'ex assessore all'urbanistica del Comune di Gela, Peppe D'Aleo, l'ex presidente del Consiglio Comunale, Peppe Fava, e l'ex consigliere comunale del PD, Rocco Giudice, tre che invece hanno accettato di pagare la sanzione imposta dalla Corte dei Conti e ne hanno spiegato i loro motivi. Chi volesse rivedere questa nuova interessante puntata di Agorà potrà farlo con la replica integrale che andrà in onda domani sera alle ore 21 su Canale 10 o sui nostri indirizzi social già a partire dal primo pomeriggio di oggi. Agorà tornerà in diretta venerdì prossimo, in prima serata, come sempre con al centro Gela e Di Gelesi. Ha convinto il progetto di biostabilizzazione dei rifiuti presentato ieri mattina all'assessorato regionale all'Energia di Palermo. L'incontro con il capo gabinetto Maurizio Pirillo si è tenuto nell'ambito di un tavolo tecnico attorno al quale erano presenti il Comune di Gela, lato CL2, l'ARPA, l'ASP e il libero consorzio di Caltanissetta. Il disagio ambientale ed economico per i cittadini ha i giorni contati, ha detto il sindaco Domenico Messinese. La prossima settimana torneremo a conferire rifiuti nella discarica di Contrada Timpazzo, evitando le folli trasferte nel lontano sito di Dentini, che dopo l'ultima ordinanza della regione hanno sferrato un colpo non indifferente alle tasche dei contribuenti. Oltre ad avere comprovato le nostre ragioni, ha spiegato il primo cittadino, abbiamo ribadito la necessità di un impianto biologico connesso all'ampiemento della discarica, il cui progetto è fermo da tempo in attesa delle autorizzazioni. La posa dell'ultima pietra, la prima solitamente simboleggia l'inizio di un'opera, l'ultima alla fine di un lavoro assieme a qualche bullone mancante. A Gela stanno edificando l'ultima pietra, quella a Tombale, mentre la politica litiga come le duellanti per contendersi il principe azzurro, la città si sta spegnendo lentamente. E' amaro lo sfogo dei rappresentanti sindacali d'Altan di Dio, Feneal, Will, Franco Iudici, Filca Cisle e Francesco Cosca, Fillea Cigelle. La contesa, a tratti irritante tra il sindaco Domenico Messinese ed il governatore Rosario Crocetta, nuoce gravemente la salute del malato terminale, Gela. Invece di correre al capezzale dell'ammalato per evitare l'estremo saluto o il larito funebre, la polemica rischia di far saltare in aria quella già fragile coesione sociale. Le federazioni sindacali della settore di Ile dicono basta, occorre svegliarsi dal torpore, accantonare la sterele polemica politica e dedicarsi anima e corpo alla città. Mentre le luci dell'attenzione stanno calando, Messinese e Crocetta dovrebbero invece alzare lo sguardo per ridare dignità e slancio economico al territorio. Alla sindacato non interessano le detribe nemmeno l'appartenenza politica dei soggetti interessati che devono farsi carico di una città dilaniata dalla povertà sempre più diffusa. Di fronte al dramma che sta investendo la comunità, Messinese e Crocetta devono riprendere in mano il timone indirizzando il veliero verso approdi più sicuri. Le federazioni sindacali del settore delle costruzioni hanno a cuore le sorti di questo battello che naviga a vista e che non intravede l'orizzonte. Tra i nodi cruciali rimane il tema legato al processo di riconversione della raffineria. La tanto agognata, Gela Siracusa, è quei lotti indispensabili per collegare questa fetta di Sicilia all'aeroporto di Comiso. Le federazioni sindacali del settore delle costruzioni della provincia di Caltanissetta intendono lasciare il loro marchio di fabbrica al territorio con la realizzazione di un'opera strategica sotto l'aspetto dello sviluppo economico, industria, agricoltura, turismo e della viabilità. L'opera comporta una ricaduta occupazionale che interesserà le comunità del comprensorio, dai lavoratori edili a tutto l'indotto. In agenda ci sono anche il portorifugio, il progetto dell'orto pasqualello, gli investimenti per la prevenzione del territorio, la riqualificazione del centro storico e la messa in sicurezza degli edifici scolastici piuttosto datati. L'edilizia privata potrebbe risorgere se il piano regolatore generale venisse definitivamente approvato. Le federazioni sindacali del settore di Ile inoltre ranno al sindaco di Gela formare la richiesta di convocazione perché, chiudono di Dio, Iudice e Cosca, vogliamo rivedere la luce in fondo al tunnel per evitare che Gela affondi come il Titanic. E in edicola il Corriere di Gela, settimanale indipendente di attualità, politica, cultura e sport, a diffusione comprensoriale fondato e diretto da Rocco Cerro. I sindacati scommettono sulla ripresa economica e produttiva. Gela può farcela, stando a quanto hanno detto i due segretari di CGL e CISL, Giudice e Gallo, nell'intervista rilasciata a Nero Lombardo e il servizio di apertura della prima pagina del giornale. C'è poi la cronaca nera che torna ad occupare la prima pagina con l'ultima operazione della polizia Falco che ha portato all'arresto di 16 persone accusate di estorsione e spaccio di droga. Giulio Cordaro, nella sua rubrica, politicamente scorretto, torna sull'argomento rifiuti e di tutto quello che vi ruota attorno. In prima pagina anche il richiamo del resoconto della seduta consigliare di martedì in cui è stata approvata finalmente la mozione sul canile municipale. All'interno servizi di attualità e cultura, la pagina delle aste giudiziarie e lo sport con il punto sulla situazione del Gela di Orazio Comando e di altri articoli sul beach, soccer e atletica leggera. In ultima pagina, come di consueto, i piccoli annunci economici gratuiti. Ci fermiamo lì nella regia per la pubblicità. Rieccoci in seconda parte del telegiornale. Sono state pubblicate al comune di Gela le gradatorie con i nomi dei soggetti ammessi e degli esclusi all'ottenimento del bonus sociosanitario e dell'assegno civico. Lo ha reso noto l'assessore ai servizi sociali Licia Abela. L'elenco è consultabile all'albo pretorio, sul sito internet del comune o negli uffici del segretariato sociale. Continua la telenovela Caltacqua Consorzio Piano Marina in merito alla realizzazione della rete idrica nella zona balneare di Manfria. In una nota, la società di gestione del servizio idrico integrato in provincia di Caltanissetta sottolinea che è ancora in sospeso il percorso per regolarizzare a garanzia e beneficio in primo luogo degli stessi utenti la vicenda degli allacci idrici di Piano Marina. In quest'area un consorzio privato ha effettuato le opere di urbanizzazione del comprensorio realizzando la rete idrica della zona e adesso, dice Caltacqua, erogherebbe l'acqua ai residenti discutendone il relativo compenso. La società ribadisce ancora una volta di avere esclusivamente concesso un punto di fornitura idrica al Consorzio Piano Marina per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, compresa la rete idrica a servizio della contrada. Nessuna concessione è stata mai data e mai la si sarebbe potuta dare a vendere l'acqua fornita e destinata esclusivamente all'esecuzione dei lavori. La situazione attuale non è conforme rispetto alla Convenzione di gestione e non garantisce agli utenti ricadenti nella zona una eguaglianza di trattamento rispetto a tutti gli altri utenti della provincia. Di fatto, la tariffa media e la quota fissa utilizzate potrebbero essere superiori a quelle applicate ai utenti del resto della provincia. Sempre che Caltacqua ha ripetutamente chiesto al Consorzio Piano Marina le appropriate iniziative per regolarizzare il contratto, pena l'adozione di drastiche misure previste contrattualmente, tra le quali la risoluzione del contratto e la disattivazione del punto di fornitura impropriamente utilizzato. Reiterando la diffida, Caltacqua esorta il Consorzio a regolarizzare tempestivamente il proprio contratto col gestore a tutela degli stersi consorziati residenti a Piano Marina che verrebbero di sicuro penalizzati qualora il gestore procedesse con l'interruzione della fornitura idrica. E in pagamento agli esportelli della banca Unicredit di Gela il contributo per il canone di locazione relativo al 2015 lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali, Licia Abela. Le somme integrative attinte dal Fondo per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione sono rapportate all'importo del contratto di affitto regolarmente registrato e alla sua incidenza rispetto al reddito del nucleo familiare. Proseguono gli eventi culturali al club Vela di Gela. Martedì 29 giugno alle 21 è previsto un incontro su ludopatie e dipendenze. Saranno presenti lo psichiatra Francesco Lauria, il sociologo Francesco Pira e la psicologa Rosaria Damaro. Modellerà i lavori e vita l'orefice. Ad aprire il dibattito sarà il vicepresidente del club Sergio Antonuccio. Il più alto numero di interventi per patologie endocrine sul territorio siciliano e la posizione strategica della città hanno reso Caltanissetta protagonista anche quest'anno del forum di endocrinochirurgia, chirurgia live, giunta la sua quarta edizione. Oltre un centinaio i chirurghi siciliani e non solo, raccolta nella sala convegni dell'ospedale Sant'Elia per approfondire e ottimizzare le tecniche di chirurgia tiroidea, surrenalica e pancreatica. Presidenti del congresso Giovanni Ciaccio, direttore dell'unità operativa di chirurgia e Francesco Scaffidi Abbate, direttore dell'unità operativa semplice di endocrinologia dell'ospedale Sant'Elia. Sono chirurghi che hanno interesse sia la chirurgia regionale ma in particolare anche dell'endocrinochirurgia che sarà l'oggetto e l'argomento della giornata, quindi quest'anno tratteremo non soltanto di tiroide ma anche altre ghiandre come surrene e pancreas. Sicuramente la parte che prende di più è la parte live, la chirurgia live è il forte di ogni incontro, di ogni anno che viene fatto qui a Caltanissetta. È una soddisfazione per me perché è un modo per poter applicare la tecnica e discuterla insieme ai colleghi che da tutta la Sicilia vengono per guardarci e per sviluppare ancora di più questa metodica e questa tecnica. Con i suoi 300 interventi ogni anno di chirurgia, la maggior parte sulla ghiandola tiroidea e le oltre 2.500 prestazioni ambulatoriali, l'unità di endocrinochirurgia, oggi è fiore all'occhiello della sanità nissena. Questo tipo di attività indica quella che è la politica che bisogna mettere in campo. Voi sapete che ci sono delle leggi di riordino che accorpano reparti, unità operative complesse delle varie discipline e quindi vanno a concentrare l'attività in determinati luoghi della Sicilia raggiungibile per tutti. Quindi Caltanessetta è molto centrale. Noi dobbiamo andare a creare queste aree di iper specialità perché soltanto in questo modo noi riusciremo a dare alla nostra gente e all'agente delle zone limitrofe una prestazione ad alta specializzazione. E' finito il tempo delle prestazioni generiche, delle prestazioni di base. Queste vanno erogate, diffuse sul territorio e rese accessibili a tutte. Ma per le prestazioni specialistiche bisogna creare degli hub dove far convergere la gente e questo ne è un esempio. Continuano gli appuntamenti in occasione della festa della Madonna delle Grazie a Gela fino a giovedì 30 giugno ogni giorno nella chiesa dei Cappuccini alle 7.30, 8.30 e 19 celebrazione eucalistica e alle 18 Santo Rosario e Coroncina alla Madonna. Domenica 26 giugno alle 21 e dunque domani veglia Mariana nel piazzale del convento e martedì 28 giugno alle 21 celebrazione penitenziale giubilare. Appuntamento con la rassegna Teatro Sotto le Stelle all'antitoto di Gela venerdì 1 luglio alle 21 e 30 è prevista la rappresentazione Turbolense in galleria della compagnia teatrale Cesare Cannata. La rassegna si concluderà a settembre. L'ingresso, lo ricordiamo, è di 5 euro a coppia. Prevista nel cartellone anche l'esibizione di Giobbe Covatta. Abbiamo concluso anche per oggi. Grazie per averci seguito. Vi auguriamo un buon fine settimana. Appuntamento alle prossime edizioni. Grazie. 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 Grazie.